Nella speedrun di oggi, stupide puzzardine schifose, ovviamente sarai sempre tu che caccerai, puzzardina schifosa che non sei altro E, ovviamente, questo sarà il mio compagno Gabri, Gabri sei contento di ciò? Yey, sì sì, contentissimo Sono molto, siamo tutti molto felici, adesso tu vai a cagare Invece io Ma no, povera Io e Gabri, no scherzo dai, siamo amici, non si offendono, cioè gli amici non si offendono fra di loro A volte, magari sì, però, dico in queste situazioni quando si scherza, no Però, adesso, Gabri, vediamo un attimo Iniziamo già con un villaggio Esatto, per fortuna abbiamo avuto molta fortuna di spawnare vicino ad un villaggio Soprattutto perché adesso, in questo video, dobbiamo trovare la mansion, ok? Tu dovrai trovarla, ok? Ah, difficile Userai il tuo naso magico per trovare la mansion Il mio naso magicissimo, che non si può dire, però vabbè Però ho trovato un sacco di smeraldi Qua comunque ho i rimasugli della scorsa volta, purtroppo Dello scorso video Perché? Eh, pure io ne ho un po' Vabbè, perché, nel senso, stiamo registrando tutto quanto di fila, no? Quindi, dobbiamo per forza Ma vai a cagare tu, stupido ignorante che non sei altro Devi morire! Ok, perfetto No, mi aveva fatto leggermente impazzire questa villaggio No, povero Ma mi sta dando fastidio, sai? Come si permette di venire vicino a me? Eh, a Dunis, c'è chi è che può avvicinarsi Proprio, ma dai, non diciamo così, sennò poi dopo Allora, vieni qua e prendi il pane, grazie Ma non è pane Non vedi che è pane? È pane Allora, invece il legno ce l'hai già, giusto? Anch'io ce l'ho già in teoria Quindi abbiamo Sì, ne ho un po' Sono contento, in effetti, sono contento Abbiamo i rimasugli, per fortuna Perché sennò poi dopo Meno male, sennò come facevamo Eh, così la stupida di fede Ma fede dov'è? No, dai, povero Il bene è che fede ogni volta è... Ma, cioè, tipo... La insultiamo male, poverina Ma no, povero Eccola, è qui dietro, è qui dietro Ah! No, un attimo No, 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 la spada L'ammazzo io, l'ammazzo io Ammazza, l'ammazza, l'ammazzala Vai, Gabri Ma non riesco ad ammazzarla Stai urlando come una scrofa? No Come non riesci a ammazzarla Ammazzala immediatamente? Dai, Gabri, per favore Che sei stupido Ma non riesci ad ammazzarvi Ammazzo, no, metà vita Me ne vado via Ma sei deficiente, vatti Ma vai ad ammazzarla È un metà vita Poi ci muoio io Non posso morire A mani nude Cioè, dai, ma scusami Ammazziamola Ma non lo so Ma poi dammi la pietra Oh, eccola qua Oh, bene, allora dammi la pietra Ma è già qua Vai via Via Smettila di spawnarci vicini Stupida appiccicosa Mamma mia Dammi la pietra tu Tieni Ok, grazie No Adesso mi offendo male Cioè, non è possibile Quere io Ma se ne sta andando via, Fede Non è che lei sa dov'è la mansion E come fa? Seguiamola, seguiamola Ma cos'è? Un mago? Cioè, no, aspetta Fermati un attimo Ma sei nascosta dietro un albero Ma perché Cosa sta facendo? Ma è deficiente Cioè, nel senso È proprio sciocchina oggi, Fede Cosa Secondo me Vabbè, non prendiamola in giro, Gabri Ma no, infatti, povera Concentriamoci piuttosto sul fare qualcosa di decente Andiamo, andiamo Cerco di trovarla Hai preso il pane, vero? Hai preso? Sì, sì, l'ho preso L'ho preso, l'ho preso No, dieci Vabbè, vedo, vedo Caspita Dovresti prendere Però nel villaggio ho trovato sei panini Vabbè, anche io Dai, ci bastano Allora, la mansion Dimmi un po' Il tuo naso dove ci dice di andare? Sentiamo Dice che è verso di qua Oh, bene, bene Sono contento Da questa parte Quindi il tuo naso dice Parla proprio Parla proprio Sì, sì Ma Fede dove è andata? Voi non potete sentire il naso di Gabri Perché a volte non lo so Cioè, parla a bassa voce lui Quindi nel microfono non si sente Però lui parla No, infatti E Fede comunque non lo so Cioè, smetti di prenderla in giro tu Che sennò devo uccidere Ma no, non la sto prendendo in giro Sì, invece, so bene Ma no, avevo chiesto dov'era So bene che stai prendendo in giro Non prendere in giro me adesso Ma no Allora Oh, ci sono dei maia Dei mini Prendiamo, prendiamo Prendiamo i maia Ah, loser Cosa? Eh, sì, proprio così Sei proprio un loser tu No, no, io no Ti stavo ammazzando Eh, infatti, tra un po' ci morivo Ovviamente la regola è scontata Se muori Se moriamo E No, infatti, non possiamo morire Esatto Dimmi un po' da questa parte Sì, sì, di qua Di qua Ok, bene Sono contento che il tuo naso parli Sta parlando bene Mi raccomando Sì, sì, sta parlando bene Molto bene, molto bene Chissà dove sarà adesso Fede Sto proprio curioso di capire dove sarà Anche perché ho paura che Secondo me è qui nascosta Vicino che ci aspetta Eh, anche su me Tipo nella foresta Infatti Oppure secondo me ci aspetta la Manson Sicuro No, dai, alla Manson no Però dobbiamo stare molto attenti Perché magari ci può fare l'agguato Quella puzzona Che non è altro Sì, magari ci ammazza Può darsi Non è che andata in miniera Per prendere diamanti E fare una spada di diamante È addirittura Ma scusa Ma secondo te Eh, può essere tutto È così intelligente Scaltra, non mi pare Dai, poverina Smettiamola di Ma no, dai, povera Gabri, stiamo parlando di Fede La stiamo prendendo in giro Ti sembra il caso? Ma no, non stavo prendendo in giro Poi devi stare dietro di me Perché stai andando avanti Ma c'è, ti devo uccidere È mai il mio naso Ma digli di star fermo un attimo Gabri, attento Questa qua è pazza Cos'è? Eccola, è qui Aspetta che faccio i 360 Eccola, è morta Loser È già qui Mamma mia Che rompi poppele Ma te ne... Ma io ho un po' sciocco basito Cioè Ma basta Ecco, è morta Andiamo via Ci stavamo uccidendo fra di noi Infatti Ma io ho veramente sciocco basito Rincocco Per non dire qualcos'altro Eh, no, infatti Gabri, devi stare dietro di me L'ho vista Ancora? Ma basta Vabbè, se ne andrà sicuramente Perché Ce l'hanno uccisi due volte Ma guarda queste api Forse sarebbe bello Che la pungessero male Ma... No, dai, povera Prepariamo una trappola Prepariamo una trappola Sì, però come facciamo? Doveva tipo Venire vicino alle api E tipo lei ci deve colpire Tipo le api Eh, per magari colpisse le api E l'ammazzano Esatto, quindi vieni qua vicino L'aspettiamo Ok, l'aspettiamo Eccola qua Ok, l'ape è scesa addirittura Quindi adesso è molto più... Ma dov'è Fede? Eh, dovrebbe arrivare Eccola qua, eccola qua No, porca pocciata E' arrivata Ce l'abbiamo chiamata No, aspetta Eh, no, ma perché lei è un pochino sciocchini Eccola qua l'ape E' qua, è qua, è qua, è qua Ok, stiamo qua, stiamo qua Stiamo qui Eccola, l'ha ammazzata Ha picchiato l'ape? Ha picchiato l'ape? Eh, sì, sì, sì Ora tutte le api la vogliono ammazzare Scappiamo Bene, bene, bene No, vabbè Abbiamo preparato la cosa del secolo, Gabri Sì, infatti La trappola del secolame, proprio Che puzzona Cioè, che posizioni schifose No, Fede non è puzzona È brava Comunque c'è il bioma giusto Oh, bene, sono contento Eh, vedi, pure io Povera Fidi Ma perché? Ma basta, per favore, siamo deficienti? Eh, sì Non so Cioè, va bene Ok, è vero Ma non è che stiamo davvero trovando il coso qua Eh, mi sa La mansion Guarda che se la troviamo Che è una struttura magica, ragazzi Tipo la struttura magica di Minecraft Chi è che non la conosce? Di Ming Però non c'è solo la mansion Cioè Ma è qua, eccola Ma te stai, mi stai urlando Spaccando di tim Abbiamo trovato la manziona Ok, aspetta Sì, esatto Ti dico subito se l'abbiamo trovata Oppure no Ok, l'abbiamo trovata però Ci vuole ammazzare Oh, porca puzzona schifosa Non si può dire però Insomma dire tanto Eh, no, no, no Meglio di no Ma mi sa che il stupido non riesce a salire qua sopra No, è già salita No, che pizza Allora, sai cosa? Aspetta, aspetta, aspetta Ho un'idea Intanto tu occupati di lei Io faccio Unlimited così Adesso Adesso ci penso io Che mamma mia Faccio proprio Ecco il mort E mort E mort Poverina, no Allora praticamente ragazzi Dovete sapere che io Sto facendo questa cosa Per un motivo in particolare Perché praticamente E riesco a vedere più fluido Ho messo praticamente una cosa Ah, bene Loro vedono allo stesso modo Però io con il combattimento Adesso sono un pro Un pro Quindi fede Forza fatti avanti Che siamo qua Che ti aspettiamo Esatto, vieni Andiamo noi da lei Ah, stupidina Eccola qua Eccola Ma vai perché Come fa La chiamiamo Ma secondo me Perché la stiamo chiamando Quando la chiamiamo Ma vedi che Spona qua davanti Cioè nel senso Possiamo continuare Ad ucciderla all'infinito Tipo Elle 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 Per Emmere Sombri Comunque ho poca vita Non vorrei dire Eh pure io No 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 Muori Ma Che schifosa Siamo invincibili Invincible Ancora No mi è sponata davanti Ma cos'è Madonna mia Ma se ne va Ma povera Dai la stiamo tortuando No infatti No dai Basta Povera Allora Andiamo Verso la magione Perché è importante Cercare All'andora Darsi l'amazzone Dato che Questa magiona E la magiona E sta Ci sta attendendo Uccido questa pecora Perché è buona Scherzo ovviamente Ma cosa Allora per tutti I vegani Qui in ascolto Minecraft È un gioco È un gioco Quindi per favore Stiamo scherzando Ovviamente Quindi Ehm Niente Questo volevo dire Niente Basta Arrivederci Salve A tutti quanti Pace amore Peace and love Ciao a tutti Allora Abbiamo trovato Però dobbiamo trovare L'entrata Ma dov'è Esatto Dov'è l'entrata Ovviamente non ci entriamo Perché anzi Ci possiamo anche entrare No no Perché moriamo male Allora possiamo fare Che non ci ha ammazzato Fede ci moriamo così No Sì esatto Cioè moriamo praticamente In due secondi Se entriamo dentro E la fine Poi dopo Perché poi Infatti C'è uno scheletro Ecco con questo scheletro Potremmo già Lasciarci le penne Per dire Infatti Quindi dobbiamo stare Molto attenti Mi sa che è qui l'entrata Mi sa Ma stiamo facendo il giro Cioè Ehm Allora Dobbiamo cercare di stare attenti Perché qua io non sto trovando Un cappero fritto No io ho paura che arriva Fede Eh potrebbe anche darsi Potrebbe anche essere Molto probabile questa cosa Molto probabile Eh però ho trovato l'entrata Ho trovato Ah meno male Meno male Eh facciamo così Aspettiamola per l'ultima volta E vediamo un attimo dove sta Probabilmente Però probabilmente è lontanissima Quindi Un attimo Un attimo Un attimo cosa Aspetta facciamo così Aspettami Eccomi Sono qui Ok perfetto Eccola Muori Muori Ok perfetto Sei già morta Sì l'ho uccisa io Quindi ragazzi Speriamo che vi sia Eccola Ancora Ma ancora qua sta Ma basta Ma basta Ma basta Ma basta Ma basta Abbiamo vinto Ma bene la spalla di ferro E' andata in miniera Che schifosa Però comunque abbiamo vinto Vedi l'ho detto che lo faceva Me lo immaginavo Esatto Abbiamo vinto Ciao Fede E noi ragazzi Vi ricordate di ovviamente Mettere un emoji Del Non lo so Di una faccia felice Se vi è piaciuta questa Bellissima modalità Speedrunnosa E Lasciate like Iscrivetevi al canale E attivate la campanellina Delle notifiche E noi ci vediamo No non ci devo morire io Ciao Ciao